Grazie, sentiamo anche voi alla vigilia di questa gara 3 che davvero rappresenta forse il top di queste sfide, di questo campionato e di quello che avete passato. Sensazioni? Sensazioni positive, noi pensiamo a noi stessi, non guardiamo in faccia nessuno e nulla, speriamo bene. Siamo cariche. Acqua Chiara? Acqua Chiara è una squadra molto ostica ma noi siamo pronte per giocarci questa finale. Sempre assieme Bianca, allora che cosa ne pensi tu di questa grande sfida che c'è domenica pomeriggio? Siamo con delle sensazioni, siamo molto cariche nonostante il risultato di ieri perché secondo me non è stata la nostra solita partita, non abbiamo giocato come al solito ma ci ripariamo sicuramente domenica. Sì, un passo falso può capitare. Certo, l'acqua Chiara è di squadra veramente molto molto tosta. Sì ma non ci facciamo mettere sottura a nessuno. Perfetto, concordi? Concordo. Molto bene in bocca al lupo ragazze, mi raccomando grazie, grazie.